La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto un giro di crediti di imposte inesistenti per quasi 18 milioni di euro, 8 soggetti denunciati a vario titolo all'autorità giudiziaria per i reati di indebita, percezione di erogazioni pubbliche, truffa e danni di un ente pubblico, autoriciclaggio, reimpiego di danno illecito, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, occultamento di istruzione e documentazione al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte in debita e compensazione di crediti di imposta, false in bilancio e responsabilità amministrativa degli enti. Emersa infatti, come un'azienda edile, oltre a essere completamente sconosciuta al fisco, si è rilevata a quale impresa criminale, dedita all'emissione di fatture false e all'acquisto di crediti di imposta fittizi, riferiti ad agevolazione edilizie, i quali sono stati successivamente monetizzati mediante la cessione a un ente pubblico.